è una grande quantità di messaggi tanto affetto da parte dei tifosi delle tifose come mai piaci tanto alle ragazze? sono un po' bello no? sono un po' bello, partiamo subito, più di Juan Jesus più di Juan Jesus sicuro, questo sicuro, si parte con delle certezze in questa puntata di prima serata allora Diego ti fa parecchie domande, hobby e canzoni preferite? quale canzone preferite? il tuo hobby, il tuo passatempo fuori dal calcio qual è? quando non sto facendo allenamento, quando sto sempre con la mia famiglia qua in Italia sempre con la mia moglie, con la mia figlia, con un ragazzo che lavora con me che è Roberto andiamo a mangiare, porto la bambina in parco fai papà? si, fai papà le tue canzoni preferite? sono tante canzoni preferite, sono tanti cantanti che mi piacciono posso dire Ivete Sangalo che tutti conosci lei c'è una canzone che mi piace molto e c'è anche una di Seu Giorgi che si chiama Zirighidun lo zio Giorgi? Seu Giorgi, si chiama Zirighidun dunque qua abbiamo Laura da Pisa, quando hai saputo che saresti venuto all'Inter hai pensato finalmente potrò giocare con i compagni che c'erano qua? campioni, tutti, tutti, tutti campioni perché guardavo in Brasile quando giocava l'Inter la squadra era molto, molto forte, sempre stato campione qua e quando è arrivato questa proposta dell'Inter ho pensato, adesso arrivo lì, lo so che non è facile conquistare un posto però se loro mi vogliono è perché c'è la qualità di giocare l'Inter e posso diventare anche un campione come loro allora qua abbiamo una foto che ci mandano adesso abbiamo anche un contributo, una telefonata ma prima vediamo questa foto di un terzetto Nicola, Nadia e Sara, un trio che dice, vediamo se la foto arriva abbiamo comprato la tua maglia ieri aspettiamo solo che ce la firmi bisogna venire qua ai cancelli sì sì, se vieni qua la firmo perché il 42? io ho giocato a Cruzeiro con la numero 2 sì e a Santos con la numero 4 quindi hai fatto il mix quando è arrivato qua c'è il nostro capitano che c'è la 4 e c'era Cordoba che era 2 intoccabili sì forza Yoyo, spingi forte sulla fascia non aver paura di dimostrare quello che sei veramente un grande calciatore che con l'Inter dovrai dare molto quindi complimenti per come stai giocando per il gran gol se sei un grande spero che tu rimanga per anni in una squadra del cuore e poi un messaggio di Vito che è una sentenza Jonathan, le statistiche parlano chiaro Messi, 0 gol in Coppa Italia tu un gol quindi sei più bravo di... cosa ne vogliamo dire Vito? ha ragione ha ragione ha ragione allora intanto stiamo ascoltando la canzone che hai chiesto prima sì, bella questa canzone mi piace molto questa canzone sentiamola un po' è difficile star fermo con questa musica io non so come faccia a star fermo con questa musica prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando vai su sky.it o chiama 199 11 44 00 prova Interchannel e poi scegli Sky liberi di... Grazie a tutti Grazie a tutti